Non sono parole retoriche, normalmente non uso la retorica per annunciare, per proclamare la parola di Dio, ovviamente, nel mio ministero, ma non uso neanche la retorica quando mi trovo di fronte a servitori dello Stato, come i membri della Guardia di Finanza. Sono parole veramente di ammirazione, sono parole di stima legate in maniera particolare al servizio che la Guardia di Finanza occupa nel territorio. Servizio difficile, un servizio difficile, un servizio ostico, però nello stesso tempo un servizio fatto con competenza, con disinteresse, con grande trasparenza e anche con grande senso di umanità relazionale. Tutto questo è fondamentale perché? Perché attraverso di loro non passa la figura di uno Stato repressivo, ma passa la figura di uno Stato. Quello che lo Stato dovrebbe sempre essere, di quello che attraverso di noi bisogna costruire, cioè uno Stato che diventa compagnia della persona. Anche quando c'è il momento repressivo, uso questo termine, dicevo prima, mi sembra importante ribadire, il momento repressivo occorre perché la legge è legge, però è altrettanto vero che il momento repressivo verso, ad esempio, una situazione è anche la salvaguardia della dignità di tutto un territorio e di tutta una collettività. Quindi va visto anche in questo senso. E il fatto che oggi lo Stato abbia di questi servitori, di questa capacità, insomma, ecco, deve riempirci veramente di orgoglio e devo dire di orgoglio anche il nostro territorio marsicano. La visita è importante? Sicuramente. La presenza di Sua Eccellenza oggi arricchisce in modo particolare la nostra giornata. Le parole che ha rivolto alla Guardia di Finanza in generale, alla Compagnia di Avezzano in particolare, sono per noi motivo di orgoglio e in modo particolare, appunto, pensare che Sua Eccellenza abbia un occhio così benevole verso la nostra amministrazione è per noi motivo di orgoglio e di vanto perché ogni giorno la nostra attività venga svolta nel miglior modo possibile in aderenza a quelli che sono, insomma, i doveri cui quotidianamente dobbiamo far fronte. Oggi è un evento importante avere la presenza del Vescovo, ma anche per una compagnia, quella di Avezzano, particolarmente attiva sul nostro territorio marsicano. Sì, la presenza del Vescovo oggi costituisce un momento di grande onore, ma al di là dell'onore è anche un momento di un resettaggio di quelle che sono poi le nostre attività istituzionali e soprattutto mirate nel sorco di ciò che l'Eccellenza, insomma, metteva in evidenza. E mi è piaciuto molto il discorso che ha fatto sul fatto che lo Stato, al di là della repressione che comunque in alcuni momenti poi diventa inevitabile, l'invito che ci ha rivolto di, come dire, insomma, partecipare con il cittadino nella evoluzione nella vita quotidiana. Grazie. Allora, diciamo insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato, il Padre nostro. Grazie. 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 Grazie a tutti i nostri Striperitori per intercessione di Maria Santissima e benedica a 내용i e auguri tanti auguri veramente, alle vostre famiglie e all'intero Corpo della Guardia di Finanza. Faccio io un applauso a voi. Grazie a voi. Grazie. Grazie a tutti.